Va bene, a che ora dobbiamo chiudere la mattinata? Quando finiamo? Ok, quindi diciamo abbiamo tre quarti d'ora più o meno, dove vi faccio vedere come una serie di cose che abbiamo accennato stamattina su questi item, quindi generatività, modelli distribuiti, fiducia, condivisione, comunità, valori. Poi abbiamo cercato di riproporli in una impresa sociale che ha al suo centro la riqualificazione di un vecchio stabilimento enologico abbandonato, lo stabilimento Dentice di Frasso, di San Vito dei Normanni, e che abbiamo trasformato in questo spazio sociale, culturale che si chiama Ex Fadda. E questa è una presentazione in cui, diciamo, proprio l'ho chiamata così, come funziona Ex Fadda, no? Cioè nel senso che non vi racconterò, diciamo così, dei presupposti, delle storie, ma proprio di come il modello organizzativo e di funzionamento cerca di interpretare una serie di questioni legate alle strategie collaborative, all'innovazione sociale, e così via. Qualche informazione di base su Ex Fadda. E' uno spazio di 4.000 metri quadri, è molto grande, la parte riqualificata corrisponde a circa i due terzi, un ettaro di giardino, praticamente al centro del paese, perché fortunatamente, diciamo, prima per veti incrociati tra vecchia proprietà e amministrazione, e poi per un vincolo intervenuto da parte della sovrintendenza, tutta l'area, diciamo, si è preservata da una speculazione edilizia o commerciale che nel corso dei decenni ha cercato di trasformare la destinazione d'uso di quell'area. Oggi è uno spazio che ospita una serie di attività, che vi ho elencato qui in maniera molto veloce, condivise da una trentina di organizzazioni tra gruppi informali, associazioni e microimprese, che in maniera temporanea o permanente utilizzano la struttura per le loro attività, per i loro scopi sociali, economici, e così via. Le persone che impieghiamo direttamente nelle attività che gestiamo centralmente sono otto complessivamente distribuite tra l'asilo, il bar, la gestione della struttura in termini di management generale e community building, logistica e manutenzione, amministrazione, fiscalità e rapporti istituzionali. All'inizio non avevamo molti soldi e lo spazio era messo molto male, per cui abbiamo deciso che una strategia al tempo stesso molto interessante per fondare una comunità di persone che volessero bene a questo spazio e cominciassero a conoscerlo, e al tempo stesso contribuissero alla sua riqualificazione, al suo allestimento, potesse essere impiantare un cantiere di autocostruzione. Per cui abbiamo coinvolto architetti, designer, artigiani delle nostre reti, professionali, di amicizia. Le abbiamo chiamate a fare una specie di residenza, che in realtà è tuttora in corso, perché l'autocostruzione poi non è un processo che si arresta, diciamo, in un periodo, ma è come se Exfada fosse un cantiere sempre attivo, anche mentre le attività accadono. E abbiamo chiesto loro di guidare gruppi di cittadini, giovani cittadini, persone appassionate, in brigate di autocostruzione che potessero sia collettivamente, diciamo, contribuire al recupero degli spazi comuni, ma anche attraverso un processo di progettazione partecipata, individuare delle funzioni ad alcuni spazi e farsi casa propria. Per cui abbiamo incrociato l'esperienza di Vincenzo, che era un musicista che aveva studiato all'Accademia Santa Cecilia di Roma, sognava di aprire una scuola di musica nel suo paese, perché la tradizione della sua famiglia era una tradizione di musicisti, di reinventare la musica popolare del territorio in una chiave di War Music. E con lui e con il suo gruppo di giovani colleghi musicisti abbiamo attrezzato uno spazio, realizzando le serie prova, gli uffici, creato uno spazio che oggi è la War Music Academy. Dentro al cantiere, nel frattempo, dei giovani fotografi si sono conosciuti, hanno pensato che potesse essere interessante avere uno spazio che insieme ufficio, con sala posa, con un piccolo magazzino per le loro attrezzature, Martina, Giuseppe, Daniele, Claudio, adesso anche Dino, hanno messo su un collettivo, si chiama Xfoto, che ha il suo studio lì dentro, e così via. Abbiamo cominciato aggregando delle persone, diciamo, in maniera progressiva, sulla base della condivisione della nostra risorsa principale, che era lo spazio. La prima idea importante è stata legata a questo, ma insieme l'autocostruzione è stata anche un'occasione per bonificare lo spazio, anche in vista delle attività commerciali, che immaginavamo potessero essere utili a sostenere economicamente la struttura. Per cui era molto importante realizzare con i cittadini un parco giochi vicino al bar, per dare l'idea che è uno spazio pubblico, è uno spazio che tu puoi fruire anche come se fosse un parco, diciamo così, non semplicemente un posto dove la gente va, se ha un bisogno specifico. Vi dicevo, l'autocostruzione è un processo che non finisce mai, perché il papà di Alessandra, che nel frattempo è tornata da Milano, dove ballava nel balletto della Scala perché voleva aprire la scuola di danza a San Vito nei Normanni, che era il suo paese, con gli scarti degli scarti della nostra autocostruzione, ha detto voi datemele a me, qua me la vedo io, e si è messo insieme ad un ragazzo che lavora nella nostra faregnameria, e hanno montato in una stanza un parquet che oggi è diventato la FADDANZA, che è la scuola di danza dell'ex FADDANZA, quindi questo per dire che l'autocostruzione è un approccio, cioè permettere alle persone di modificare l'ambiente in cui vivono, per noi è una strategia fondamentale. Poi eravamo di fronte a una scelta, cioè dire, ok, che cos'è ex FADDANZA? È un posto dove si erogano attività e servizi, quindi noi ci organizziamo i concerti, poi facciamo noi il laboratorio, poi apriamo l'informa giovane per i ragazzi, nel senso capite, no? C'è un posto che individua fuori come target e che dice io erogo dei servizi verso un pubblico potenziale. Non è che a San Vito ci fosse tutto questo pubblico potenziale, no? Per cui ci sono anche dei ragionamenti che hanno a che fare con una valutazione del tuo contesto. Però in realtà eravamo molto più interessati a costruire una piattaforma, cioè immaginare che ex FADDANZA potesse diventare un sistema distribuito che condividesse risorse con chi era fuori per costruire una comunità di persone che cominciassero, ah, persone e organizzazioni che cominciassero a parlarsi tra di loro su il nostro server, questa è la metafora del web, è molto potente per descrivere uno spazio piattaforma, ok? E che cominciassero, diciamo, a ritenere utile per le proprie attività, e adesso vedremo in che forma anche dal punto di vista economico e di accessibilità, fare le attività in uno spazio condiviso e cominciare, diciamo così, a costruire lì dentro la propria esperienza. Tenete conto del fatto che la nostra mania è legata ai debuttanti, cioè ex FADD è uno spazio, diciamo, che ha una particolare propensione, anche perché, diciamo, nasce dentro le politiche giovani regionali, io vengo da quella storia, al fatto di essere uno spazio che abbassa la soglia di accesso alla vita attiva, cioè permette a persone molto giovani, non solo dal punto di vista grafico, ma anche dal punto di vista dell'esperienza, di poter cominciare a fare qualcosa per provare, perché se tu non provi non capisci mai se ci sei fare, e questo è uno dei problemi del mercato del lavoro italiano, che per accedere ti richiede esperienza, ma nessuno ti dà quell'esperienza che ti permette di accedere, quindi tu sei in questa paranoia, diciamo. Quando vuoi, come devo dire, attivare qualcuno, devi cominciare a condividere per primo, quindi noi avevamo molto spazio, abbiamo deciso che il nostro spazio doveva essere uno spazio distribuito, e quindi che dovesse ospitare altre persone che non fossero la nostra organizzazione, e devi mettere qualcosa in mezzo, per cui noi paghiamo la rete, la mettiamo qui gratis, noi vi offriamo dei servizi di comunicazione condivisi, a cui se partecipate alla nostra comunità potete accedere. In più abbiamo una serie di servizi che riguardano il fatto che c'è Roberto, c'è Vito, che vi possono dare una mano, ok? Cioè possono sostenere il vostro processo di messere insieme un'associazione, avere dei rapporti istituzionali, costruire la tua azienda, che possono facilitare il fatto che tu lo cominci a fare. Non è un incubatore, ex-fad, perché non abbiamo servizi strutturati per diventare impresa, ma crediamo molto che la prossimità, in termini di condivisione delle tue ore e del tuo spazio, possa generare per contagio meccanismi di apprendimento. Poi ci serviva un bar, ma non perché dovesse essere un bar a disposizione della struttura, ma perché volevamo che lo spazio fosse percepito come uno spazio normale, ok? Cioè come un posto dove le persone possono andare a bere il caffè, anche se non sono persone che hanno a che fare con le attività di ex-fadda e che ci potesse aiutare da questo punto di vista ad avere, come devo dire, un flusso di cassa importante ai fini della sostenibilità della struttura. Quindi che ragiona con la struttura, ma che al tempo stesso abbia la sua autonomia, come se fosse un'attività commerciale vera, ok? Cioè invece molto spesso le attività di somministrazione, diciamo, di spazi di questo tipo, diciamo, è molto spesso di servizio, no? È quasi più un peso che non un'opportunità. E siccome dobbiamo allargare questo ragionamento, vi ho già parlato di X-Food, nel senso che la nostra ultima operazione di riqualificazione legata alle vecchie stalle della struttura ci sta permettendo di aprire un ristorante, che in questo momento ovviamente segna segno meno dell'investimento, ma ci auguriamo che nel futuro possa aiutarci, diciamo, a garantire i nostri obiettivi di sostenibilità economica. Qua vi ho fatto una carrellata di quali sono, diciamo così, le attività a mercato che fa X-Fad, di modo che poi vi posso raccontare tutto il resto. E sono gli eventi, nel senso che la struttura, in questo caso questa è una fotografia di un festival che produciamo d'estate, che si chiama Yeyesi, è un festival diciamo che anche in questo caso ha l'obiettivo della sperimentazione, quindi noi invitiamo musicisti famosi, produttori, player del mercato della musica, a confrontarsi per un periodo con giovani musicisti o giovani operatori musicali del territorio, per cui sono venuti Manuel Agnelli delle After Hours, Piero Pelù, loro vengono lì, ma non per fare il concerto, cioè vengono lì per stare due giorni con i ragazzi, fare un seminario insieme, fare una sala prove insieme, cioè trasmettere un'esperienza, quindi lavorare anche lì su un festival come occasione di apprendimento per i più giovani che però possa anche, diciamo così, avere la capacità di produrre un dispositivo economico. Oppure facciamo un mercato dell'antiquariato perché i pubblici sono molto diversi, quindi quando lavori in un paese diciamo hai bisogno di lavorare con tutti, e vabbè altre cose che facciamo. Affittiamo la location per soggetti terzi, diciamo così, che hanno bisogno di venire a fare la loro attività commerciale, il loro incontro all'interno dello spazio. Abbiamo dei servizi, diciamo così, a reddito, come per esempio l'asilo, che è un'attività tra le prime, che è nata all'interno della struttura ed è un asilo normale, diciamo così. E poi però abbiamo diciamo una larga comunità che nel frattempo attraverso l'autocostruzione si è generata e con cui stiamo provando a sperimentare quelle che chiamiamo nuove forme di economia, cioè nuove forme di scambio, che hanno due obiettivi. Da un lato, diciamo, tenere come moneta circolante la fiducia e fare in modo che la comunità sia solida e si alimenti, cresca, ma dall'altro, diciamo così, permetterci di pagare le utenze, pagare il personale e fare la manutenzione ordinaria della struttura. Scambi non monetari. Per esempio, con alcune signore che fanno parte di un'associazione che è nata dentro XFAD che si chiama Ingegnosamente, loro sono signore che fanno artigianato, fatto a mano, e hanno un laboratorio, una galleria espositiva, abbiamo pensato che potesse essere interessante con alcune di loro, piuttosto che ragionare in una logica di affitto di uno spazio, potesse cambiare servizi, in questo caso di pulizia, con l'ospitalità all'interno della struttura. Oppure costruire una strategia delle alleanze. A San Vito c'è un negozio di strumenti musicali che si chiama Discocrazia, gestito da due ragazzi molto attivi nella vita sociale e culturale del paese. Loro volevano aprire un altro ramo di aziende legato a una sala prove. In questo percorso hanno incrociato la nostra esperienza. Durante il cantiere di autocostruzione abbiamo realizzato, sperimentando l'utilizzo della paglia come strumento fonoassorbente la realizzazione di una scatola che potesse essere la loro sala prove. Loro hanno investito per cablarla, attrezzarla e adesso è un servizio costruito con una strategia delle alleanze che ExFadda fornisce, in cui quota parte delle revenue sono dedicate a coprire i costi della struttura e parte coprono il loro investimento. Voi capite che ovviamente uno spazio del genere diventa un ottimo gate di ingresso a un mondo giovanile che poi all'interno della struttura produce contenuti, partecipazione. Poi ripeto, non è un incubatore, però abbiamo incubato una serie di cose che sono nate. Dalla storia di Vincenzo vi ho già raccontato, quando siamo partiti questa scuola aveva due studenti, diciamo per cui erano tipo suo cugino e un altro. Adesso la scuola ha 70 iscritti, Vincenzo comincia a vedere anche un po' di soddisfazione economica dopo un anno e mezzo di attività. Anche di ExFoto vi ho raccontato, la cosa interessante di questo progetto è che mi ha aiutato a capire come sul terreno dell'educazione non formale possa essere molto utile una dinamica di peering tra trentenni e ventenni. Cioè immaginare che l'esperienza di autoimpresa di un gruppo di ragazzi di trent'anni possa cedere come risorsa eccedente apprendimento per ragazzi di vent'anni, né più né meno di quella che era la logica di bottega, che purtroppo, diciamo così, ci siamo dimenticati, ma in realtà può essere molto interessante rispetto alla crisi dei sistemi formativi e della formazione professionale. Oppure questo è un progetto di Antonello, Gianluca e Gionata, si chiama Marezza, loro stanno facendo una cosa molto carina nel senso che a San Vito c'è una tenda per esterni nella tradizione davanti a tutte le case, si chiama Rezza. La Rezza praticamente aveva perlomeno nei bassi una funzione igienico-sanitaria perché ti permette di lasciare aperte le porte, di far circolare l'aria tra il giardino e la strada. L'ultimo artigiano sta andando in pensione e loro hanno pensato di prendere in mano questa tradizione, di farsi insegnare come si fa la Rezza perché il cantinato di costruzione ci ha permesso di mettere su una piccola falegnameria, ma di trasformare questa tradizione anche in innovazione per cui la Rezza può diventare un elemento di design per realizzare lampade, sedute e così via, ma al tempo stesso può diventare un supporto per un progetto di land art, perché di fatto è un supporto di legno fuori dalle strade, hanno cominciato da una strada del centro storico e stanno portando avanti questo progetto. Queste sono tutte progettualità promosse da ragazzi, più o meno intorno dai 20 ai 30 anni, che sono nate in questi anni, non esistevano prima e non le abbiamo progettate noi, ma dentro questo processo, non dentro questo progetto, proprio dentro questo flusso di cose hanno visto la loro nascita. Vi ho raccontato anche di Soft Boom e del progetto, questo era un dei pezzi forti di questa presentazione, ma ve l'ho detto prima, c'è una giovane software house del territorio che vuole fare scouting di personale e ragiona con noi su come un loro processo può essere messo a disposizione di un percorso di apprendimento di altri, secondo una logica di condivisione delle eccedenze. Questo percorso che si chiama DevStarter lo abbiamo realizzato, loro adesso hanno assunto una persona che ha seguito il corso, che sta lavorando con loro, per cui funziona. Poi le sponsorship, che cosa vuol dire però le sponsorship? Relazioni tra persone, no? A Matteo Urgese, che è la persona con la tute, che è uno dei principali imprenditori edili di San Vito dei Normanni, può essere interessante proporre una strategia di marketing relazionale a livello locale per sostenere gli interventi di restauro del tuo ristorante, no? Perché in una comunità, diciamo, il marketing e le sponsorship sono rapporti tra esseri umani, non solo tra brand. Oppure con Mino, lui è il giovane imprenditore, il giovane presidente di Confindustria giovani di Brindisi, curioso verso questo nostro approccio, diciamo così, molto light alla cultura dell'intrapresa, più che all'imprenditorialità, e hanno deciso di venire da noi a fare un evento, cioè di progettarlo insieme, l'abbiamo chiamato Non sarà un'avventura, e l'idea è che abbiamo bisogno di tutti per costruire un ecosistema economico locale, sia di un fricchettone come me che di Confindustria, perché, diciamo, abbiamo bisogno che comincino a parlarsi anche approcci differenti. Per noi, ovviamente, questa cosa diventa interessante, perché se Confindustria, piuttosto che dare 500 euro di affitto della sua sala all'hotel, plaza, al corso a Brindisi, comincia a investire su uno spazio recuperato, vuol dire che è possibile generare nuove conversazioni. Oppure è possibile immaginare che il tuo spazio possa diventare uno spazio che sperimenta la open innovation. In questo caso abbiamo coinvolto un'azienda del territorio che si occupa di voice recognition, cioè riconoscimento vocale, quella roba che tu parli da una parte e poi ti esce il testo scritto dall'altra, in un camp in cui abbiamo detto tu ci paghi delle borse di studio per dei ragazzi del territorio, piuttosto che investire in una campagna pubblicitaria con dei 6x3. Questi ragazzi verranno qui, passeranno 15 giorni con noi in una sessione di vacanza, di lavoro e di studio, perché chiameremo delle persone a insegnare molto brave, che potranno, come dire, essere utili al percorso di questi ragazzi, ma al tempo stesso loro lavoreranno al miglioramento del tuo workflow aziendale su delle tracce che tu ci dai. Quindi io vorrei approfondire questo aspetto per migliorare il mio processo produttivo, vorrei lavorare su questa nuova idea. Durante il campo, per esempio, è venuta fuori una cosa molto bella, cioè applicare la voice recognition al linguaggio della LIS, quindi creare una forma di riconoscimento da riconoscimento del movimento a scritto, quindi un nuovo servizio di trascrizione, hanno fatto un piccolo prototipo, poi ovviamente è cura dell'azienda, diciamo, prendere questa cosa, proseguirla. Per fare questa roba qui noi spendiamo zero euro in comunicazione, quindi è molto più probabile che ci trovate in uno screenshot così sulla nostra pagina Facebook, piuttosto che su un giornale, perché io penso che la comunicazione sia inutile, diciamo quella pagata se stai facendo, nel senso che tu hai tanto materiale, devi solamente condividerlo come processo, oppure se vuoi lavorare sul tuo territorio è molto più interessante prendere la tua scuola di scherma e fargli fare un'esibizione l'uscita dei bambini dalla scuola elementare, cioè non è un flash mob, è vero. E questo è un po' il nostro bilancio, diciamo 2013, ovviamente non abbiamo, cioè questa è stata una ricostruzione a posteriori, nel senso che non siamo partiti da una previsione, ma è la nostra chiusura a consuntivo del 2013, come vedete ovviamente abbiamo un segno meno, perché siamo ancora in una fase di investimento, e là potete vedere insomma le varie voci che vi ho segnalato nel corso di questa presentazione. Poi se avete bisogno ve la lascio. Quando abbiamo cominciato, abbiamo cominciato così, cioè adesso che io sono arrivato a San Vittorio e Normanni, abbiamo preso dei pennelli in mano e abbiamo cominciato a pittare delle pareti, no? Perché uno, l'esempio è molto importante, per cui se tu vuoi aprire uno spazio e dire agli altri vieni a farlo con me, lo devi fare per primo, no? Perché... e due, perché è impossibile quando ti butti in processi di questo genere, e noi siamo partiti dicendo che Exfad era una scusa per generare un progetto di sviluppo locale. Adesso diciamo, stiamo partendo con una serie di altri progetti legati alla riqualificazione di una vecchia scuola per aprire uno stello, il cantiere di autocostruzione ha gemmato un progetto che è stato finanziato dal Ministero per creare una scuola di artigianato di nuova generazione. Ecco, diciamo, quell'intuizione dell'inizio, che quell'immobile potesse diventare la scusa per ragionare su un piccolo esperimento di sviluppo locale in una comunità di 20.000 abitanti, comincia diciamo a sembrare un po' più realistico. Ma non siamo partiti da un piano, perché quando tu progetti in contesti con variabili fuori controllo, e noi viviamo tutti in contesti con variabili fuori controllo, il punto non è il tuo business plan, perché non stiamo producendo dei bulloni, cioè stiamo costruendo consessi in cui persone collegate tra di loro cercano di costruire il proprio valore. Per cui è molto meglio, dal mio punto di vista, questo è il consiglio, avere un approccio aperto, adattivo, in qualche maniera amico del caos, cioè non essere spaventati dal fatto che non controlliamo niente, ma anzi guardare a questa cosa come la nostra principale risorsa. Per cui sono le... l'una, quindi direi, ci facciamo un quarto d'ora di chiacchiere, se ce ne sono, magari dubbi su Exfadda, e poi pranzo. Come avete gestito i processi di autocostruzione e che tipo di limiti pratici avete incontrato anche per la sicurezza? Come vi siete divincolati? Allora tutto è stato molto selvaggio, molto clandestino, nel senso che abbiamo anche fatto degli abusi edilizi, mai sanati. Allora ci siamo regolati in questo modo, abbiamo messo a disposizione un budget che derivava da un residuo di un progetto che era gestito dall'organizzazione capofila, di circa 13.000 euro, per chiamare dei collettivi o dei singoli professionisti come capi cantiere. E quindi abbiamo coinvolto un gruppo di artigiani designer di Milano che si chiama Contro Progetto, con cui avevamo già lavorato nel corso di un cantiere a Taranto, quel parco giochi che vi ho fatto vedere prima. Poi abbiamo chiamato un architetto di Taranto che si chiama Michele Loiacono, una designer di San Vito che si chiama Angelica Longo, che a San Vito ha aperto un appartamento Lago, sapete quegli store che la Lago apre invece di aprire negozi? Cioè chiede alle persone di aprire degli appartamenti, anche lì questo potrebbe essere un altro interessante modello, piuttosto che aprire il negozio, chiede a delle persone a cui do i mobili al prezzo del negozio di aprire degli appartamenti che diventano dei luoghi in cui accadono eventi, no? Casa Mediterranea. E poi vabbè hanno partecipato una serie di altri gruppi, diciamo con piccoli contributi, tra cui LAN, Laboratorio di Architetture Naturali, Alter Eco, un altro collettivo che lavora con la Paglia, però adesso non mi ricordo come si chiama, insomma c'è chi è stato lì due mesi, chi invece è venuto magari solamente per tre giorni per una cosa specifica, e quindi era tutta la struttura come se fosse una carpenteria, no? Quindi tu immagina c'era dentro la sega circolare, le frese, la cassetta degli attrezzi, la parete degli attrezzi, e quindi tu potevi venire e abbinarti ai gruppi, diciamo che giorno per giorno si creavano per fare il soppalco, no? E per cui magari c'era, cioè chi aveva un obiettivo specifico perché non vedeva l'ora che finisse, perché quel posto diventava la sede, diciamo, della sua realtà, e quindi erano magari dei gruppi anche un po' più strutturati, performanti, no? Cioè entro la fine di questa settimana, questa parte è qui, entro la... E invece gruppi magari che più sugli spazi comuni, no? Perché poi abbiamo realizzato anche, ve l'ho fatto vedere prima, cioè tipo questa goccia, quella che si vede lì dietro, non so se si vede bene, no? Cioè pure queste sculture al centro, no? Un po' come funzione generale per l'assorbimento dei rumori, un po' anche semplicemente per estetica dello spazio, che erano invece, diciamo, dei lavori collettivi nati da sessioni di brainstorming con le persone legate alle raccolte delle vecchie storie dell'ex fada, perché ci avevano raccontato che c'era una casa sull'albero che è stata costruita nel tempo quando lo stabilimento era abbandonato, quindi avevamo quest'idea di questa casa sull'albero, quindi l'idea di realizzare una struttura sospesa al centro di una stanza, vabbè. E quindi il cantiere ha funzionato in questo modo, non abbiamo richiesto nessuna autorizzazione per farlo, ma abbiamo assicurato le persone, tutte le cose che abbiamo realizzato compaiono come installazioni artistiche, anche se in realtà hanno delle funzioni di utilizzo reali. Se l'avessimo dovuto fare con procedure ordinarie, penso che non l'avremmo mai potuto realizzare, perché in realtà non esiste in Puglia in questo momento una normativa che permette di fare una roba di questo genere. Cioè anche le normative sull'autocostruzione sono normative legate al fatto dei gruppi di autocostruzione per le case, le cooperative edilizie, però sul tema dell'autorecupero, quindi abbiamo fatto un po' di operazioni un po' borderline, assumendocene però la responsabilità, nel senso che il soggetto capofila, che è una SRL tra l'altro, ha assunto la responsabilità di compiere un'azione, ma non vorrei neanche dire illegale, perché poi non so se è effettivamente un'azione illegale, cioè in sede di giudizio come verrebbe articolata una difesa. Abbiamo poi anche provato a chiamare dopo dei professionisti per certificare quello che avevamo realizzato, però in realtà poi là c'è tutto un tema sull'utilizzo dei materiali, perché, ah questa è un'altra cosa interessante, gran parte dei materiali utilizzati provengono da attività di recupero di materiali dismessi. Noi abbiamo stretto degli accordi con delle aziende nel settore dell'allestimento, quindi Fidanzia Sistemi, Romano Exibit e Fiera del Levante, per cui abbiamo recuperato parte del materiale di dismissione di loro eventi, per cui laminato di parquet, medief, legno, moquette, moltissima moquette abbiamo utilizzato per esempio. Tutto questo materiale è un materiale che teoricamente tu non potresti utilizzare, perché è un materiale che noi abbiamo recuperato dagli allestitori prima che venisse conferito in discarica un stoccaggio di magazzino. Per cui abbiamo cercato di apparare dove più potevamo, quindi con delle bolle di donazione, di materiale, però non esiste come dire una procedura da seguire se vuoi fare una roba di questo genere, per cui o non la fai o provi a farla in questo modo. In realtà avremmo voluto fare di più, avremmo voluto per esempio anche aprire un dibattito pubblico sul tema del recupero degli spazi attraverso delle procedure più aperte, con questo tipo di approccio, però poi poi lì ci vuole il tempo, nel senso che non siamo stati in grado di tenere, come devo dire, di dire adesso l'abbiamo fatto noi, vogliamo che si faccia la legge, non siamo stati in grado di farlo, anche se ce l'eravamo in qualche maniera detto con alcune persone che avevano partecipato all'autocostruzione, con cui lavoriamo, questo architetto Michelo Iacono di Taranto, però questa è stata un po' la storia dell'autocostruzione, e poi tutto quello che sta avvenendo ora, diciamo, avviene perché abbiamo una falegnameria, quindi quando abbiamo dei bisogni, cioè si creano delle situazioni, quindi per esempio adesso le signore dell'artigianato avevano bisogno di trasformare questi banchi in delle strutture richiudibili, per metterle anche all'aperto, per cui si sono attivate loro, con le chiamate mariti, una situazione così. Hai parlato di una piattaforma, di un server, usando quella metafora web, che vi serve, se ho capito bene, per far un po' da collettore di bisogni che emergono, che in qualche modo voi cercate di non progettare a priori, ma quindi soddisfare sulla base di una reale esigenza e poi viene dal basso, diciamo, non dalle persone che poi sono potenziali utenti. Concretamente, come l'avete strutturata? No, ma non è un sito, eh? No, no, diciamo, metafora appunto. È proprio una metafora, cioè nel senso che l'idea è dire che piuttosto che ex FAD essere un produttore di contenuti, cioè che ci mettiamo io, direttore organizzativo, il direttore artistico, a fare il nostro palinsesto, immaginiamo che lo spazio sia uno spazio di servizio, cioè che serve a far fare cose ad altri. Cioè questo è il nostro core business, diciamo, aiutare le persone a fare le cose loro, incoraggiandole, sostenendole, aiutandole. Poi è chiaro che c'è una parte di contenuti prodotti da noi, molti anche, però diciamo il nostro, cioè la nostra attività principale è fare in modo che si divertano altri, cioè che altri facciano, come devo dire, che altri, quindi diciamo piattaforma in questo senso, cioè riconcepire il ruolo di uno spazio da erogatore a piattaforma. Quindi questo pensavo potesse essere, se siete interessati a ragionamenti sullo spazio di co-working, un po', no Andrea, cioè tutto, diciamo, ruota intorno a questo concetto, no? Cioè come si rende utilizzabile da altri uno spazio, che non è solamente un tema di come metto le scrivanie, ma è un tema di come disegno le relazioni all'interno di questo spazio, di come strutturo i dispositivi di connessione tra le persone, no? Che non è semplicemente stabilire una tariffa, ma è, cioè fare in modo che le persone siano a loro agio, che possono scambiare risorse in maniera positiva con te, quindi piattaforma in questo senso, poi come lo facciamo? Ce lo facciamo in maniera spontanea, cioè nel senso che all'inizio abbiamo creato dei momenti fondativi delle assemblee pubbliche in cui abbiamo detto ok, duemila metri quali della struttura a disposizione delle idee di chi vuole, troveremo il modo per organizzarci, seconda assemblea pubblica, abbiamo avuto quest'idea rispetto a come contribuiamo tutti al costo delle utenze, terza assemblea pubblica, cominciamo sulla mappa a dire e confrontarci su dove pensi che sia meglio che la tua attività venga ospitata, cioè questo ha generato un modo di fare, per cui adesso diciamo che c'è il processo in corso, arrivano due ragazze e dicono noi vogliamo aprire la radio e quindi diciamo sappiamo già quali sono gli spazi che possono essere ancora messi a disposizione, magari convochiamo un'assemblea, presentiamo le persone alle altre, diciamo chi vuole contribuire a questo progetto, litigano ferocemente poi tu vai gli fai fare pace cioè insomma diventa un cioè ripeto è molto nella prossimità è una generazione continua sulla base di confronti, di formule ora è molto importante da questo punto di vista siamo stati molto fortunati perché questo lavoro che ho fatto per due anni e che adesso per questo lavoro che sto facendo ora della scuola riesco a fare di meno cioè il fatto di garantire una quotidiana presenza di mediazione, incoraggiamento, relazione, cioè fortunatamente in questo processo abbiamo trovato un'altra persona che abbiamo cioè che veniva da una delle esperienze e che abbiamo assunto che è diciamo così fa questo lavoro in maniera egregia no? cioè è proprio un come devo dire un un facilitatore sì uno che risolve i problemi no? che non c'ha mai le paranoie cioè che è sempre positivo capito? un angelo un angelo sì è una persona molto brava non ha studiato niente diciamo così ha imparato a farlo sul campo quindi anche lì poi dove si studiano queste cose non si studiano cioè cominciare a fare qualcosa è il posto dove impari a no? cioè questo ha fatto il pizzaiolo a Corfu poi l'antiquario per tanti anni però ha questa dote diciamo che abbiamo scoperto insieme cioè un ottimo come devo dire community manager offline community manager proprio dico in presenza in presenza sì 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 come tutti schedati rispetto a questa cosa qua infatti appunto per quello che dicevi anche te la cosa importante partendo dal co-working come spazio di lavoro condiviso la cosa più importante soprattutto in contesti dove non ci sono le grandi città e quindi già un numero di persone e un flusso di persone più grandi la cosa più importante è costruire la community io poi nella vita nella fattispecie faccio l'architetto e progetto spazi di co-working e la cosa più importante che dico sempre non è lo spazio ma la community di persone perché poi il co-working sta con il numero di persone il numero di persone che quindi hanno delle idee hanno dei progetti che il fare insieme dipende solo dalle persone non dallo spazio e quindi rispetto a questo è quello proprio il metodo con cui costruire questa community la cosa più importante quindi quello che dico sempre che è un po' quello che ha fatto vedere anche Roberto con l'esempio di Exfad dell'autocostruzione della costruzione con la community locale è quello il processo importante e rispetto all'altra cosa anche della facilitazione poi dello spazio fisico perché è vero che le persone stanno insieme che è bello collaborare che è bello fare le cose insieme però non è assolutamente naturale questa cosa qua quindi avere uno spazio e dice vabbè lo spazio è aperto alla comunità locale non è vero che poi le persone vengano nello spazio ma ci va molta molta energia per portarle all'interno costruire contenuti come fanno loro facciamo anche noi come Casa Netto nel senso che ogni progetto che poi funziona perché ci sono dei contenuti che attirano ma poi c'è sempre bisogno di una persona che mantenga questo dialogo tra le varie persone e come diceva Roberto una cosa importantissima che questi qua sono lavori non da curriculum nel senso che non è importante il curriculum ma è importante l'attitudine quindi il fatto di essere aperti perché comunque il sorriso ci va ci va molta condivisione e ci va anche molta pazienza perché a volte comunque richiede poi tanta energia ma a livello di tempo che le persone io vedo dalla mia esperienza che poi vi parlerò anche nel pomeriggio di Casa Natural è un progetto ed è un lavoro chiamiamolo così che non che non smette mai nel senso che ogni volta che vai anche per strada se lavori poi appunto in un territorio più piccolino locale la gente ti ferma e inizia a parlare però non è che dici ah no non voglio di fermarmi nel senso che proprio quello poi fa parte di questa facilitazione ed è vero che trovare questi angeli non è così facile ma quando li trovi devi veramente poi tenerti con te e poi dall'altra parte invece se il progetto è spontaneo se il progetto è fatto veramente di pancia nel senso che se la gente ci crede per le altre persone diventano anche questi facilitatori nel senso che ti aiutano poi appunto perché credo che quello che diceva Roberto prima del fatto della comunicazione che non vedrete mai la loro comunicazione con immagini piuttosto che altre cose sui grandi giornali ma perché c'è molto più una comunicazione informale quindi sono le stesse persone che partecipano che poi diventano i promotori di quelle iniziative è un po' il metterci la faccia nel progetto che tante volte quando tu chiedi alle persone ma hai voglia di aiutarmi a fare questa cosa la gente ti guarda così però se in realtà poi ci crede perché l'ha provata sulla propria persona poi ti aiuterà anche perché diventa una risorsa per loro stessi perché più si è e meglio è quindi su questo diciamo nel nostro modello organizzativo noi abbiamo anche sperimentato un po' di forzature nel senso che noi avevamo il problema per esempio di sostenere i costi di guardiania dello spazio c'è spazio molto grande che apre la mattina alle 7 con l'asilo e chiude a mezzanotte con il bar e la sala prove con gli eventi quello che sia quindi tu teoricamente hai un turno lavorativo di 15 ore che ovviamente se tu dovessi avere un guardiano diciamo che controlla la gente che entra la gente che esce poi uno spazio immaginato è concepito come una piazza per cui aperto sia negli spazi interni esterni alla fruizione di tutti ad eccezione ovviamente degli studios diciamo che ci sono che ci sono all'interno quindi l'idea qual è stata? siccome non possiamo permetterci di comprare un guardiano di assumere un guardiano come dovremmo di comprarlo lo schiavo di assumere un guardiano comprare esatto diamo le chiavi a tutti ok? quindi noi non sappiamo esattamente quante chiavi ci sono in circolazione no? perché tutte le organizzazioni che fanno parte della nostra comunità la prima cosa è che queste sono le chiavi no? fidandoci del fatto che il fatto di avere le chiavi genera un elemento distribuito di responsabilità e che ciascuno portandoci un pezzettino dentro e lo so anche a me cioè all'inizio quando io l'ho proposto diciamo il mio capo mi ha detto ma tu sei matt però ho capito però secondo me è come dire una forma di management cioè non è come devo dire cioè che io sono le chiavi a tutti perché siamo tutti amici cioè è una forma di management distribuito cioè che dice che fiducia prossimità relazione generano le condizioni per cui io posso distribuire un onere no? e per cui diciamo ci possiamo permettere il fatto che io me ne posso andare quando voglio cioè che posso svolgere il mio lavoro un'altra parte e questo libera risorse ovviamente quindi secondo me genera più risorse dei problemi che può creare infatti in due anni l'unico problema che abbiamo avuto è che una volta dei ragazzi con delle sigarette hanno bruciato un telo però anche lì quello poi diventa un'occasione no? perché tu che fai? fai una fotografia la metti su facebook dici noi stiamo lavorando sulla fiducia e continueremo a farlo nonostante questo perché capito cioè è un processo di apprendimento collettivo perché poi diciamo dal nostro punto di vista è un progetto diciamo molto contaminato col sociale col senso sociale il senso è anche lavorare sulla cittadinanza sul bene comune cioè è anche un po' quello il nostro filone culturale no? cioè nel senso che noi lavoriamo molto come dire sul fatto che i cittadini prendano potere che le persone siano responsabili cioè perché è così diciamo perché perché ci piace così bene finito tu non hai imparato niente praticamente insomma è un fallimento questo laboratorio Flavio cioè la domanda di apprendimento non è esatto vabbè poi vengo a fare veniamo a fare ripetizione a torresuda vabbè 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 ma non è una domanda perché appunto forse è una ripetizione ho fatto un balletto no perché sono entrata e già ho iniziato si è parlato di autocostruzione ma a livello di sistemazione degli spazi interni in funzione delle attività ma il bene da dove è arrivato mi sono persa questo e in che stato allora il bene è un bene di proprietà pubblica che è stato concesso in utilizzo a una cordata di organizzazioni locali capeggiata da una società privata che si chiama SandSRL che è il suo core business in attività di comunicazione media screening però siccome sono tutti di San Vito sono sempre stati attivi a livello cittadino hanno deciso di buttarsi in questa roba qua per fare qualcosa di interessante poi abbiamo incrociato le nostre storie e lì è nata io poi sono diventato il progetto manager di questo spazio per cui è un bene pubblico che è stato affidato con un bando a un'organizzazione privata in concessione per 5 anni rinnovabili qua potremmo entrare in tutto un dibattito sui limiti le opportunità di un'operazione di questo genere cioè nel senso che è una cosa ottima ovviamente però con un tempo molto breve quindi anche questo investimento in realtà è una mezza follia perché teoricamente l'anno prossimo tra un anno e sei mesi scade il quinquennio di gestione ovviamente può essere rinegoziato però potrebbero cambiare le condizioni per cui diciamo che non è tutto ovviamente c'è il nostro dibattito su che cosa accadrà di questa cosa però anche lì vogliamo affrontarlo in una dimensione pubblica noi organizziamo periodicamente proprio delle assemblee aperte in cui chiamiamo tutti raccontiamo quello che sta accadendo noi ne facciamo un'altra tra fine maggio o primi di giugno in cui vogliamo anche chiamare l'amministrazione comunale chiamare la regione Puglia dire vabbè che facciamo vogliamo fare dei ragionamenti insieme ovviamente sì ovviamente sì ovviamente sì ma sai cosa che come? sì diciamo teoricamente la dice raggiungimento degli obiettivi insomma c'è un contratto molto cioè il contratto non è molto come devo dire articolato è un contratto molto semplice per cui vedremo diciamo poi a San Vito ci sono anche le elezioni a maggio poi sapete che nelle piccole comunità queste cose si giocano anche molto nella dimensione elettorale no? però la nostra idea è comunque stare a pieppare anche nel dibattito della campagna elettorale perché poi alla fine questa cosa qua è una cosa politica cioè se non è politica è una cosa del genere no? che cosa è politica? che dobbiamo discutere delle buche nell'asfalto no? quindi vedremo insomma che cosa che cosa accadrà lo stato in cui ci è stato consegnato l'immobile era un immobile che aveva subito un intervento di recupero che però negli anni si era degradato con i problemi principali erano infiltrazioni risalita di umidità era completamente vuoto vabbè ovviamente c'era un grande spazio aperto quindi ma siete intervenuti anche a scadare sì in parte sì 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 cioè adesso che siamo intervenuti su alcune infiltrazioni siamo intervenuti su alcuni episodi di risalita abbiamo tirato su dei muri abbiamo aperto delle porte e poi abbiamo realizzato soppalchi strutture mobile e fisse no i 13 mila euro non era un investimento per i professionisti e poi abbiamo comprato parte del materiale comprato l'attrezzatura comprata l'attrezzatura sì ripeto quei 13 mila euro derivavano da un finanziamento il resto il materiale sia stato un investimento dell'azienda sì 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 poi ovviamente diciamo durante l'autocostruzione quando c'era stato bisogno di intervenire su alcune parti diciamo c'è là magari abbiamo chiamato il muratore abbiamo pagato le tre giornate poi ovviamente è un processo un po' misto nel senso che no sì 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 ma anche nel ristorante cioè diciamo che l'investimento grosso è nel ristorante diciamo perché mentre qui complessivamente diciamo il tutto è montato più o meno a 45 mila euro sì però sai per esempio dal punto di vista del rischio questo tema del capitale no la storia del ristorante mi ha insegnato molto cioè nel senso che lì l'azienda praticamente è partita quasi da zero no scommettendo sul fatto di riuscire a costruire attraverso questa storia un'operazione di fundraising intorno diciamo all'intervento di recupero dello spazio che ha tante forme cioè abbiamo incontrato la disponibilità della fondazione il mio dono di unicredit che ci ha pagato le cucine per esempio poi abbiamo fatto un'attività di fundraising più ordinaria in diverse forme dalle donazioni all'acquisto di pacchetti di cena in anticipo poi abbiamo trattato con i fornitori cioè dicendo ti paghiamo quando cominciamo a lavorare no e questa cosa qui diciamo ovviamente non è che non puoi metterci nulla è un'azienda diciamo che c'è il suo corbis dall'altra parte quindi il che vuol dire anche una facilità di accesso al credito con le banche no cioè si anticipi fattura e così via quindi sì sicuramente diciamo quest'operazione così importante è stata possibile anche perché c'erano una serie di condizioni pregresse però parliamo ecco di 4.000 metri quadri cioè di un'operazione abbastanza monumentale no su spazi più piccoli diciamo lo puoi fare con altre misure ma loro come devo dire cioè non penso che avessero miliardi cioè nel senso da uno spazio privato in affitto e appunto quello tuttora è il nostro spazio quindi poi ve lo racconto dopo però appunto ci sono dimensioni diverse di progetto secondo anche delle necessità però l'importante è che si può partire questo qua poi ognuno ha la propria formula però per partire si può devi capire che cosa sei disposto a fare e come puoi farlo cioè se decidessimo oggi che questo spazio diventasse uno spazio di co-working adesso non voglio dire però tu hai bisogno di zero per partire cioè nel senso che si tratta di recuperare della roba cioè quello che voglio dire hai bisogno delle persone che vengano a utilizzarlo ma soprattutto bisogno di persone il capitale principale sono le persone il motivo per cui abbiamo voluto mettere insieme tutte queste esperienze il motivo per cui abbiamo voluto mettere insieme tutte queste esperienze così diverse tra loro e anche questi modelli così differenti è proprio per questo cioè perché nell'ottica della puntata zero il modo in cui stiamo vedendo questo laboratorio come dire puoi mettere insieme gli stimoli le idee le suggestioni ma anche le persone perché tutte queste esperienze anche le esperienze di Exfadda ma così come quella di Casa Netura sono esperienze che partono dalle comunità cioè è chiaro che intorno alla comunità la costruzione della comunità si incontra secondo me con la costruzione del progetto poi va declinato su ogni territorio le specificità vengono diciamo a seconda anche delle situazioni che hai cioè lavorare sulla domanda per ragionare in termini di marketing non è il mio pezzo forte però cioè lavorare sulla costruzione della domanda in termini di numeri e in termini di senso anche cioè è efficace piuttosto che ragionare solo sull'offerta cioè perché molto spesso viene molta gente immagino pure da te che dice voglio fare lo spazio polifunzionale come fate voi capito però il punto che non è che dobbiamo progettare lo spazio che dobbiamo progettare le attività cioè devi ragionare proprio all'ammersa cioè devi ragionare su a chi serve come devo dire no sì sull'esigenza sulla domanda c'è la radio di ragione sulla domanda come il bisogno di condivisi dello spazio dentro come esigenza di intercettare per intercettare anche la domanda per poi dare una risposta nello specifico di Exfada diciamo il cuore erano persone che avevano bisogno di uno spazio per fare il loro progetto no e quindi cioè dentro trovi magari qualcuno che partecipa con tutta la visione del mondo quindi che magari è proprio un nostro sodale e qualcuno che dice oh io devo venire a fare atti marziali a me non mi devi rompere le scatole con le tue pippe sull'economia collaborativa martedì e giovedì alle 18 alle 20 e va benissimo perché poi anche quella persona a lungo andare sarà quella che dirà ah bello domenica vengo i miei figli capito e quindi poi no cioè però partire da cose vere come devo dire no cioè non da presunti bisogni di laboratori di nulla cioè che spesso come devo dire è un po' una malattia di chi fa il nostro mestiere no cioè presumere che ci sia qualcuno disposto a venirci dietro nel nostro interessantissimo percorso su non so che cosa no invece cioè cerchiamo di essere molto concreti molto sì sì cioè il classico lo spazio per gli artisti no lo spazio espositivo come se ci fossero tante persone che vogliono esporre non ce ne è in Puglia non ce ne è nessuno che vuole esporre vedo questa notizia capito non c'è bisogno di spazi espositivi no scherzo ovviamente cioè c'è bisogno però cioè che solitamente si dice no lo spazio laboratorio lo spazio espositivo cioè ragionare su delle funzioni capito ho visto poi delle cose abominevoli in alcuni modelli di gestione di spazi culturali dicono lo spazio espositivo affittabile tipo un metro quadro due euro due metri quadri quattro euro cioè ma progetti nati con questo tipo di impostazione cioè spazi che anche con una grande prosopopea capito si propongono all'utenza in questo modo c'è tanta fortuna però cioè non penso che il nostro territorio come direbbe esprima questo tipo di di necessità no ecco volevo chiederti quindi cioè ci piace molto l'idea della concretezza quindi quello di cioè l'idea proprio di costruire insieme di realizzare insieme e anche di essere elastici verso chi magari non se la sente poi di di iniziare a lavorare cioè e cerca solamente lo spazio insomma in cui svolgere l'attività però poi da ribadire o forse da spiegare meglio il fatto della cioè della non programmazione economica che se da una parte è necessaria perché se inizi a programmare e voler progettare non fai nulla cioè ti fai prendere appunto dalla paranoia dall'altra però c'è una persona c'è comunque bisogno di un profilo che che abbia un po' la gestione della situazione allora la nostra fortuna nel caso dell'ex FAD è che questo profilo è condiviso con l'azienda cioè la parte di amministrazione cioè di fatto ex FAD è un ramo di azienda di una società ok e di conseguenza diciamo gode del beneficio di avere il commercialista della società che linkano quando dico che non serve una programmazione economica cioè cosa dico in realtà allora che ex FAD si può fare perché non paghiamo un affitto per esempio perché se pagassimo un affitto cioè credo che questa operazione potrebbe essere molto più rischiosa invece sostanzialmente i nostri costi sono legati a le utenze no? la manutenzione ordinaria è il personale oltre alla produzione nostra diciamo di eventi ma la nostra produzione di eventi è in una logica che tu produci gli eventi con un'ipotesi di rientro quindi è un circolo abbastanza chiuso il tuo personale diciamo essendo sostanzialmente tra bar asilo e poi solo due persone diciamo legate al management in senso stesso della struttura quindi diciamo sono legate a servizi che hanno il loro equilibrio economico quindi qual è il punto? Tenere i costi molto bassi cioè perlomeno non prevedere dei costi superiori rispetto alle tue aspettative questo è banale però cioè nel senso che poi è chiaro che affrontiamo questi ragionamenti quotidianamente però dico se invece l'investimento fosse molto maggiore dovessimo pagare un affitto per uno spazio così grande cioè adesso non saprei neanche dirti che tipo di risposta dovremmo inventarci probabilmente dovremmo essere molto più serrati in un meccanismo di noleggio cioè dovremmo spingere molto sull'affitto dello spazio che invece è un'opportunità chiediamo ma non spingiamo in nessuna cioè non è che facciamo pubblicità per dire venite a fare il convegno magari qualcuno ci conosce viene a fare la cosa perché è un po' più alternativa rispetto a che farla all'albergo però non è che abbiamo un ramo cioè non abbiamo un direttore commerciale ecco va diciamo così mentre se avessimo magari dei costi fissi più alti non legati a un'ipotesi di rientro in termini stretti quindi il bar che ha tanto personale perché ha quel flusso di cassa cioè se il bar ha minor flusso di cassa ha minor personale l'asilo uguale no per cui cioè tenere i costi molto bassi per questo dico in generale perché sia che si sia piccolo medio grande cioè siccome ragioniamo di contesti molto instabili cioè volare sempre molto basso su quello che ti puoi permettere partire anche da un buon cioè la premessa era buona quella comunque già di avere una struttura che ma una struttura è una persona cioè è chiaro che devi contare quanto costa la cosa che fai cioè devi avere l'idea di quanto costa in maniera reale no? sì no nel senso che mi piace credo che sia la cosa più bella poi di questo laboratorio nel senso di dialogare nel senso che appunto Roberto racconta Exfad io racconterò di casa Netura però credo che la cosa importante è cominciare quello che abbiamo detto prima ma poi anche ognuno trovare il proprio modello quindi quello che ti dice lui è il suo modello io ti racconterò un'altra cosa ma il tuo chissà qual è nel senso che immaginano rispetto a quello veramente in termini economici e in termini di investimento il capitale proprio di rischio del progetto legato alle comunità sono le persone perché senza quello tutto casca nel senso che nell'economia collaborativa quando c'è proprio il discorso di collaborazione quindi community se non esiste la community non vale nemmeno il tuo servizio quindi puoi immaginarlo può essere un bisogno latente puoi scoprirlo puoi osservare tutto quanto ma se poi le persone non vengono vuol dire che non funziona può essere che non funziona nel tuo paese nel tuo territorio specifico magari funziona da un'altra parte però sei fuori luogo a quel punto e quindi è un po' questo il ragionamento proprio prendere dalle nostre esperienze anche questo laboratorio di questi giorni qua un po' come modelli di quello che esiste già magari nel tuo territorio non funziona è vero che le nostre esperienze messe poi un po' a sistema e prendere gli aspetti positivi che possono essere scalati su altri territori vanno bene però l'atteggiamento di prendere una cosa copiarlo non funzionerà mai perché poi innanzitutto perché voi stessi siete diversi da noi quindi ognuno si porta dietro un bagaglio diverso un atteggiamento un attitudine e dall'altra parte perché non esistono proprio dei progetti replicabili to cure ma invece devi sempre un po' scalarlo e modificarlo è a servizio nostro non di chi ci segue via streaming purtroppo è che è molto bello ovviamente questo dibattito questa apertura immagino che ci sarà lo spazio per continuarla anche nel pomeriggio ma vorrei anche come dire rispettare chi di là sta preparando un altro momento di convivialità di dialogo perché come dicevo prima stamattina i pranzi sono stati pensati lunghi anche per questo motivo sono stati organizzati in modalità collaborativa anche quelli vedrete che ci sono diverse aziende che ci stanno sostenendo in questo percorso e che sono tutte aziende del posto e che ci hanno dato una mano c'è Yolanda che ha coordinato tutta la preparazione anche di questo momento qui vorrei spiegarvi bene il sistema del Fatou che è un sistema dell'economia della fiducia noi troverete sui tavoli delle tovagliette con un menù molto sintetico che è quello che mangieremo oggi c'è un antipasto e un tris di primi e vi chiediamo faremo girare ci sono dei pennarelli di quantificare voi il valore di quel piatto ovviamente vi chiediamo di dare una quantificazione che tenga conto della qualità della bontà di ciò che metterete in bocca ma anche in qualche modo di tenere conto anche del valore di tutto il percorso per quanto riguarda quei momenti che sono appunto stati organizzati con la collaborazione di tante persone che si sono messe a disposizione da stamattina stanno lavorando in questo senso quindi io non so Roberto se tu sei d'accordo possiamo anche continuare le nostre chiacche tra l'altro c'è una performance del pentolo che prepara la pasta non so se tutti voi l'avete già visto io oggi lo vedo per la prima volta ci vediamo vabbè tanto siamo qui alle tre grazie Roberto grazie Roberto grazie a tutti